Voci.fm, il sito delle voci. Sergio Friscia, ti ritroviamo al cinema in Compromessi Sposi, un ruolo molto divertente, sei un poliziotto. Sì, faccio il comandante della stazione dei Carabinieri di Gaeta, personaggio particolare, mi sono divertito tantissimo. Sono veramente contento di aver avuto l'opportunità di recitare accanto a Vincenzo, che adoro, a Diego, persone meravigliose, molto generose. Sì, veramente due grandissimi artisti, due mosti saghi, come sono stati definiti più volte, questa cosa li ha fatti sorridere, ma è vero. Molto, molto carini anche nei confronti dei colleghi, è nata molta improvvisazione durante le scene, infatti abbiamo fatto uscire pazzo il regista, che giustamente non ne poteva più. A un certo punto ci ha abbandonato, ha detto fate voi, grande Francesco. Un cast molto bello, una commedia credo sia molto dolce, molto romantica, ci sono tutti gli elementi per far sì che una famiglia completa possa passare una serata bella al cinema. Quindi, insomma, sono molto contento di far parte di questo. Un piccolo ruolo, ma mi sono divertito tantissimo. Siamo contenti anche noi, però noi siamo voci.fm, il sito delle voci, per cui non possiamo fare a meno di chiederti intanto della radio, che fai da tanti anni, RDS, com'è lavorare in radio e lavorare con altri, dai, mezzi matti come te? Guarda, sono molto contento, sono nato e cresciuto in radio, poi l'ho abbandonata per tanti anni per esigenze lavorative di cinema e tv, sono tornato a farlo da tre anni e sono felice perché sono su RDS, insomma, è una bellissima realtà, una grande famiglia. Poi accanto veramente alla regina della radio, che è Anna Bettinelli, ci siamo trovati subito dal primo giorno, siamo andati d'accordo, sembra che lavoriamo insieme da una vita, è una fascia molto importante, anche 9-12 comunque è una fascia parecchio importante. Il pubblico ci sta premiando, quindi voglio ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci seguono e la radio, insomma, è eterna, è rimasta veramente un paradiso in questo ambiente e devo dire che sono molto contento, quindi cercherò di farla per tanti, tanti anni, magari invecchierò lì. Senti, come nasce il tuo amore per la radio e soprattutto come nasce l'amore per la tua voce, perché in radio si lavora con la voce e basta? Guarda, io ho cominciato sin da piccolino, intanto ho iniziato con le imitazioni classiche dei parenti e dei professori, infatti credo di essere l'unico caso di bambino espulso dall'asilo perché, insomma, ho cominciato a fare casino un po' troppo, resta. Poi la musica ha sempre fatto parte della mia vita, ancora oggi, 24 ore su 24, c'è in sottofondo la musica. La radio credo che sia un'ottima scuola anche per chi vuole poi fare un lavoro a 360 gradi come ho cercato di fare io in questi 30 anni, perché ti permette di abituare il cervello a pensare velocemente, non puoi lasciare ovviamente i buchi che sembrano enormi, quindi devi pensare velocemente, devi imparare a improvvisare, a infilarti nella situazione, a rispondere eventualmente a un ascoltatore con il quale stai interloquendo e devo dire che è un'ottima scuola per tutti, quindi lo consiglio assolutamente di farlo. E poi, insomma, veramente impari il mestiere, perché quando ho cominciato a farla io ci facevamo tutto da solo, praticamente le cassettine famose da 30 secondi senza bianco in testa, con la matita per portarle indietro, e ci mandavamo i dischi da soli, potevamo scegliere, ecco, questa è una cosa che mi manca, il poter scegliere la musica durante la programmazione, ormai è tutto lì stabilito, quindi non se... Sono le playlist, esatto, devi un po' sottostare a quelle che sono, però, insomma, noi siamo contenti perché passiamo la musica molto amata dal nostro pubblico, i 100% grandi successi, quindi piacciono a tutti. E quindi, insomma, sono veramente contento, mi diverto tantissimo, lì sono nati i primi personaggi che poi ho portato in tv, per esempio, i personaggi che poi ne cito uno perché è ancora molto amato, il signor Di Giovanni del Settimo Piano, il vecchietto di Macao, che ancora dopo 30 anni mi chiedono, è nato proprio in radio. Poi ho sentito l'esigenza, quando ho avuto l'occasione di fare tv, di dargli un volto, una vestaglia, quindi, insomma, gli abbiamo dato anche... Però è nato in radio, quindi benvenga e viva la radio sempre. La tua voce la curi in maniera particolare oppure lasci andare, lasci fare alla natura, quando è roca è roca, quando c'è non c'è? Io soffro tantissimo, come tutti i toro, il punto debole è proprio la gola. Quindi, diciamo che non mi curo tanto perché poi, essendo anche motociclista, sto al freddo e al gelo, ma preferisco questo al casino e al traffico che non sopporto. Cerco di proteggerla, ovviamente. La mia voce, diciamo, in quanto tale, non mi piace particolarmente, non l'amo. Tant'è che l'unica volta, credo, prima e ultima, che mi hanno fatto fare un disco, proprio seriamente, senza imitare qualcuno, come è successo per esempio a tale e quale, show, oppure nelle parodie musicale che ho fatto in questi anni, mi sono trovato molto a disagio, mi vergognavo come un ladro. Però piano piano mi sono abituato. Poi, comunque, insomma, mi piace anche il fatto di essere un po' sporco, nel senso che non curo molto l'addizione. In quello mi aiuta il fatto di essere riconosciuto come comico, quindi, insomma, me la buonano certe cose. Uso molto spesso frasi dialettali siciliane, perché comunque la Sicilia ce l'ho dentro il cuore. E mi diverto, perché mi piace poi che molti ascoltatori mi scrivono, è bellissimo questo termine, non lo conoscevano, oppure vogliono che spieghi proprio il significato, che molte cose sono intraducibili, che sono proprio o palermitane o siciliane. Quindi, insomma, mi diverte, ci gioco molto, mi piace giocare molto con la voce. E poi, ti ripeto, mi continuo ad avere un grande spirito di osservazione, un orecchio musicale, quindi osservo molto quello che mi circonda e molto spesso prendo spunto anche dalle voci, dai modi di fare, che sento in giro, per creare magari qualche personaggio nuovo. Quindi, insomma, ben venga. Quindi, insomma, quando la radio è simpatia e divertimento, giusto? Assolutamente. Io dico sempre non me lo fate diventare un lavoro, quindi per me è sempre come andare in sala giochi a divertirmi e quello è il bambino che è in me che spero ci sarà sempre, perché, insomma, nel momento in cui non mi divertirò più, cambierò mestiere, ma spero non succederà mai. Un bacione, un saluto grandissimo a tutti voi di Voci.fm da Sergio Friscia. Continuate a seguirmi e grazie di cuore. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play. Chi lavora con la voce.fm gratis su App Store e Google Play.fm.